Buongiorno, sono Giacomo Biancalani e il mio cane è J Music dei Matiblu. Facciamo questa bella esperienza, ci stiamo divertendo molto. Il cane lo vedo molto in forma in questi giorni, sta bene anche fisicamente, nonostante una partenza un po' rischiosa su quella passerella, comunque non ha avuto nessun tipo di problema, sta molto bene, è lucida, fisicamente sta bene, quindi sono contento, per ora sta girando molto bene. Ok, parlaci un po' del tuo cane, quanti anni ha? Allora J Music ha sette anni, che carattere ha? È un carattere molto nevrile, lei è un cane molto nervosa, quindi la mia difficoltà è mantenerla un po' concentrata nel tre ring, però è un cane abbastanza sicuro, è comunque preparato discretamente bene, quindi per ora non abbiamo trovato grandissime difficoltà. Andiamo avanti così, bene. Con gli altri come si comporta? No, lei è molto socievole, è un cane molto socievole con tutti i cani, non ha nessun tipo di problema, lei è il suo unico obiettivo qua, è fare agilità, quindi si sta divertendo tantissimo. Abbiamo iniziato mercoledì, vorrebbe fare un mondiale tutte le settimane lei, quindi tutti i giorni è la cosa che la gratifica di più. No, molto bene. Perfetto, ti ringrazio e buona giornata per questo mondiale, grazie.